In merito all'esposto presentato dal consigliere di minoranza del Movimento 5 Stelle Consolato Natalino Caccamo su presunte violazioni delle procedure di mobilità e dell'articolo 97 della Costituzione, arriva la replica del sindaco di Agropoli Adamo Coppola. Le tematiche sollevate dal consigliere Caccamo, spiega, sono già state trattate ed ampiamente discusse in un consiglio comunale di alcuni mesi fa. Sulla questione si sono pronunciati inoltre gli organi competenti, in particolare quell'ispettorato della pubblica funzione a cui il consigliere indirizza l'esposto in questione, destinatario di altro esposto precedente su medesimo argomento. Con essi il consigliere comunale denuncerebbe presunte irregolarità in ordine ai procedimenti e assunzionali tenuti dall'ente nel corso degli ultimi anni. Viene posta l'attenzione sui procedimenti di mobilità volontaria a seguito di procedure di comando, nonché sul reclutamento di personale attingendo da graduatori di altri enti pubblici. Relativamente al contenuto del primo esposto del consigliere comunale, l'ente ha avuto modo, per quanto concerne il primo punto, di acquisire la risposta dell'ispettorato della funzione pubblica, che non ha proceduto ad alcuna contestazione. Altresì, in risposta alla nota di chiarimenti sul secondo punto oggetto dell'esposto, inviata da tale ispettorato e pervenuta all'ente, quest'ultimo ha inviato riscontro scritto. Con esso il comune di Agropoli ha dato puntuale riscontro a quanto segnalato dal consigliere. L'ispettorato contattato in seguito per le vie brevi ha evidenziato di essere soddisfatto della risposta pervenuta, non sollevando alcuna censura o contestazione. Il diritto di critica politica legittimamente esercitato dal consigliere comunale Caccamo, conclude il primo cittadino Adamo Coppola, su questo argomento ed altri, ha da molto debordato in ambiti diversi, unicamente sottesi in modo capzioso a fomentare inutili e pericolosi atteggiamenti di ostilità di parte della comunità, nonché esercitare pressioni di sorta, anche attraverso lo strumento mediatico, sulle istituzioni preposte al controllo di legittimità e legalità dell'azione amministrativa a cui l'amministrazione comunale di Agropoli si rimette con assoluta trasparenza e spirito di collaborazione.